Noi come uno degli ospedali più antichi e più grandi di Milano e della Lombardia siamo un grande luogo di cura dove curiamo tante patologie, anche tumorali e siamo il più importante istituto di ricerca pubblico italiano. Non tutti sanno che noi siamo anche il più grande proprietario terriero italiano e quindi proprio forti di questa storia più unica che rara vogliamo mettere a servizio questo patrimonio della promozione di stili di vita di un ambiente migliore, di una filiera alimentare corretta e che permetta a tutti di accedere a cibi più sani. Per cui abbiamo realizzato una serie di operazioni tra cui quella più importante è la creazione di un marchio alimentare che utilizza i cibi prodotti sui nostri terreni dai nostri conduttori e che vengono poi venduti nella grande distribuzione con il marchio Cagranda che è il nostro logo con cui usciamo. Siamo partiti con il latte, quindi un latte biologico garantito dai nostri medici ogni 15 giorni viene controllato, ha un QR code che ti permette di sapere esattamente in quel cartoccio che stai bevendo quali sono i valori nutrizionali e quando è stato munto e soprattutto il ricavato di tutto questo va alla ricerca. Quindi il cerchio che si chiude è un cibo che fa bene a chi lo usa ma fa bene poi a tutti attraverso quello che diamo alla ricerca. Sul tema ambientale stiamo creando tutta una serie di miglioramenti ambientali ricreazioni di zone umide, riforestazione, ricreazioni ecologiche, aumento della biodiversità su tutti i nostri terreni quindi su una scala molto grande che ci permette di impattare fortemente sull'aria che respiriamo, sul creare degli spazi per fare attività all'aria aperta per promuovere degli stili di vita corretti portando le persone a visitare a fare attività e quant'altro sulle nostre terre. In ultimo il nostro obiettivo per il futuro che partirà con l'anno nuovo sarà quello di creare il più grande orto urbano della città su 40 ettari a Milano città dove coltiveremo delle orticole per la ristorazione collettiva e per tutti i cittadini che vogliono venire sul campo a raccoglierli. Quindi ancora una volta cibo garantito sicuro e garantito dai nostri medici con delle metodi di coltivazione innovativi che danno sicurezza su quello che mangiamo che è un tema importante come abbiamo sentito oggi.